Noi ogni anno, da qualche anno, non di più di tre per la verità, stiamo facendo questo convegno per raggiungere tutti gli animatori della Carità, più che animatori semplicemente di Caritas, per dare anche un supporto in vista di una formazione più omogenea, ma anche rispondente ai bisogni del tempo. Quest'anno abbiamo magari anche un titolo un po' impegnativo, Stili di vita sostenibili ai comunitari, che non è comprensibile immediatamente, ma che però vuol dire in sostanza che noi abbiamo delle povertà di sempre, ma anche delle nuove povertà, a cui non possiamo sempre rispondere con i sistemi di una volta. Forse noi siamo più proiettati sul dare risposte immediate, sul fare, sull'operatività, mentre invece c'è anche da imbastire un discorso più ampio, che vada nella direzione di una formazione globale, sia della persona, che deve avere un'attenzione, come il Papa tante volte insiste, al creato, alle relazioni, tutte queste cose, sia della comunità come tale, perché la comunità deve farsi carico di un'animazione più ampia, che solleciti tutte le persone della comunità a farsene carico senza deleghe, perché tante volte si deleghono alcuni.